È una cosa che colpisce entrando tutte le accortezze, tutte le tecnologie anche tradizionali e innovative che sono state utilizzate per rendere questo straordinario museo fruibile a chiunque ed è anche questo un aspetto che ci rende orgogliosi di come la comunità del parco, il presidente, il direttore hanno lavorato e stanno lavorando in questi anni. Ovviamente per il ministero è importante che tutti i parchi vengano amministrati bene e vengano valorizzati e avvicinati a tutti i cittadini e ai giovani attraverso iniziative come queste. Una sua impressione su Cilento, in particolare su questo posto incantivo che è Castellabate? Cilento è un posto straordinario, ormai anche famoso, giustamente famoso per varie ragioni e indubbiamente aver potuto passare una giornata qui è stato un motivo. Ovviamente è un'area che si conosce, che conoscevo anche prima, però non ero mai stato a Castellabate ed è stata anche questa una scoperta straordinaria.